Festa del Libro 2018, associazione culturale Terra Matta, siamo qui presenti alla Festa del Libro con la Biblioteca Vivente e Barrel Book. Abbiamo ripristinato infatti il punto Barrel Book che prima era davanti il teatro Calibati e da oggi sarà in Via Mercato Sant'Antonio, andando verso il Cinema Grivi. Abbiamo organizzato appunto la Biblioteca Vivente che è un'esperienza nuova. Sì, un'esperienza che abbiamo già proposto in altre occasioni. Oggi abbiamo voluto creare questo evento, questo Biblioteca Vivente che consiste in libri viventi che hanno raccontato la loro storia, i bambini e i passanti che hanno partecipato a questa bellissima giornata. Ci vediamo l'anno prossimo alla nuova Festa del Libro. Barrel Book libero scambio di libri, quindi condividete i vostri libri e scambiate i nemri botti. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!